Come va? Ho avuto periodi migliori. Mi hanno bocciato la maturità. E non riesco ad avere una ragazza. Stiamo raccogliendo firme per presentare la nostra lista al Consiglio d'Istituto. Mi prega veramente più un cazzo che sta scuola. Io avrò una proposta da farti. Candidati con noi. E che musica fate quindi? Sai che non l'abbiamo mai capito. Perfetto. Sono simpatici due amici. Però da quando vanno all'università è un bordello vedersi tutti. Tu non ti ricordi di me, vero? Tre. Mi piace molto. Due. Ecco il problema, scusa. Uno. Non hai detto che la donna della tua vita non era viola ieri? Eh, un'altra. Che comunque lascerei due secondi dopo come tutte. Cento per... Cento per cento. Io ti capisco perché facevo esattamente le stesse cose. Mare di... No. Non sono gay. Hai presente quando ti ho detto che avevo avuto una storia con uno più grande? Non ero l'unica. Stai sempre a giudica a tutti, a fare la morale. Ma non sapete proprio un cazzo voi? Che cazzo per idea? Ma che succede? Come va? Come va? Tutto in bene? C'è una cosa che... che non vi ho detto. Cosa? Sono sempre stato benissimo con te. Per cui... Lascia... Posso? Cazzo stava mandando vogare. Audio, scusa, scusa.